Non svegliare perché anche dorme, non svegliare perché anche dorme. La livella, la livella è quello strumento che i mutatori usano per livellare i muri. Dunque, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha dato nè questa criança, ognuno ha dato nè questo pensiero. Ogni anno in questa triste e mesta ricorrenza anche io ci vado. E con dei fiori adorno in loro l'armonia di Vicenza. Stanna è capitata un'avventura, però necchi si mancia che paura. Però facendo l'anima e coraggio. Dunque, stanna è messa un grifo.